L'Aquila arriva a Fano dopo una tre giorni tribolata, causa pari interno col Roma City. La panchina è in bilico e i giocatori sotto la lente di società e piazza. Urge una svolta, una vittoria curerebbe molti malanni, ma il Fano è avversario complicato, chiedere al Chieti. Epifani si affida agli uomini più esperti con l'assetto privilegiato, tridente pesante e linea mediana con Uali e Angiulli del Pinto. 3-5-2 per Rondina che sostituisce Scorsini squalificato, fischia Cipolloni di Foligno. Alla prima offensiva abruzzese, Sarrizzu scappa via sull'out di sinistra e mette subito al centro per Galesio. Il cioccolatino è solo da scartare e il bomber di Cordoba lo assapora per bene fino alla fine, sbloccando il match. 0-1. All'ottavo da corner, il Fano reclama una respinta con la mano, ma Cipolloni lascia proseguire tra le proteste dei locali. Passano quattro minuti e Banegas prova a sfruttare le sue doti liberandosi col mancino, ma il pallone esce di parecchio dopo il solito slalom dell'argentino. Due minuti dopo la mezz'ora, Tengorang scappa via a Brunetti e appena nel mirino cerca la porta. Michelin si distende e salva il vantaggio dei suoi prendendosi gli applausi dei 100 tifosi aquilani. Al quarantesimo il Fano prova a impensierire Michelin dai 25 metri, il 12 Aquilano respinge e poi Tengorang non trova lo spunto per la battuta a rete. La pressione marchigiana ora si fa più pesante. L'Aquila al tramonto del primo tempo ha la clamorosa occasione per raddoppiare con un'azione fotocopia del gol di Galesio. Stavolta la coincidenza col cross di Sarrizzu la prende Banegas, ma il suo mancino sorvola di pochissimo la traversa di Viscopo. E' questa l'ultima azione di un primo tempo dove l'Aquila ha sbloccato immediatamente, reggendo con ordine alle offensive marchigiane e sfiorando il raddoppio con Banegas sul copia e incolla di un Sarrizzu scatenato a sinistra. In apertura il primo pericolo lo crea Roberti che al volo prova a sfruttare l'inzuccata di Tomassini, ma il sinistro, solo forte, non è preciso, terminando sopra la traversa. All'improvviso il Fano pareggia sfruttando una dormita aquilana nel cuore dell'area di rigore. Tengorang invece sveglissimo e col tocco morbido batte Michelin. È il decimo, ma è tutto da rivedere per una presunta posizione irregolare del Colored marchigiano. Al minuto 19 Tengorang alza il giri del motore e scappa via a Cassese prima di trovare il muro di Michelin, bravo a chiudere lo specchio della porta. Sarrizzu al ventitreesimo fa capire agli avversari che nel serbatoio c'è ancora benzina, facendo ammonire Mancini e guadagnando una punizione da buona posizione. Banegas alza le mani e chiama uno schema perfettamente riuscito la firma finale, però ce la mette Angiulli con una rasoiata imparabile, anche per il numero uno viscoso e il nuovo vantaggio aquilano. Poco dopo la mezz'ora Galesio potrebbe chiudere in anticipo i giochi, ma la sua testata sfiora il palo alla destra di Viscovo, ormai battuto. L'Aquila gestisce bene senza soffrire più di tanto e con i suoi uomini migliori prova a far male da calcio piazzato. Galesio di testa colpisce ancora con i tempi giusti, ma sulla linea di porta il Fano riesce a spazzare via il pericolo. Al cinquantesimo i rosso-blu possono chiudere definitivamente la contesa col neoentrato Persiani, ma il suo tiro muore tra le braccia di un Viscovo che ringrazia. Finiscono qui le emozioni e di conseguenza la gara. L'Aquila sbanca anche il Mancini di Fano, dimostrando di essere sì convalescente, ma con una voglia matta di rialzare definitivamente la testa. Ora si torna al Gran Sasso d'Italia, tra le mura amiche, con la speranza di chiudere un cerchio che spesso e volentieri si è rotto sul più bello a casa propria.